Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie di essere qui, grazie per il coraggio di sfidare la neve e di essere qui questo pomeriggio insieme per parlare di fedeltà, direi che l'incontro poteva iniziare nel modo migliore, in effetti se siamo qui è proprio per essere fedeli, quantomeno fedeli alle storie, fedeli ai libri, fedeli alla voglia di dichiararsi, io direi di prendere una posizione grazie al racconto, grazie all'adesione alle parole che tanto raccontano di noi. Il tema di questo incontro, anzi di questa rassegna, giri di parole, è il cambiamento e quando il circolo dei lettori qualche settimana fa mi ha proposto di tenere questa lezione, questo monologo che spero possa anzi aprire e diventare un dialogo, anzi davvero chiunque se volete aggiungere qualcosa, confrontare, non esitate ad alzare la mano, ponere, io non ho verità assolute da condividere con voi, soltanto idee, opinioni, quindi sarei più che felice e grata di ricevere le vostre, qualunque cosa non c'è nemmeno bisogno di aspettare alla fine per, se volete, ecco intervenire. Dicevo, quando il circolo qualche settimana fa mi ha proposto di tenere questo incontro dedicato al cambiamento, chiedendomi di scegliere una parola, una parola soltanto che per me rappresentasse, sintetizzasse l'idea di cambiamento, di evoluzione, ho subito pensato alla parola fedeltà, che in effetti forse non è il termine che balsa alla mente in primis quando si parla di cambiamento nei manuali di self development o nei grandi seminari di motivazione personale verso le aziende non è proprio la fedeltà ad essere annoverata tra i primi motori di cambiamento. Eppure per me, nella mia storia, nella mia storia, nella piccolezza del mio percorso biografico è stata la fedeltà, forse ciò che più mi ha spinta a cambiare, a mettermi in gioco, a sfidarmi e a farmi progredire nella mia piccola storia personale che forse non ha così tanto senso, ma non soltanto nella mia, in quella di tanti libri che ho letto e alcuni dei quali vorrei condividere con voi oggi. Ecco perché ho scelto di intitolare questo momento. è meditazione letteraria intorno alla fedeltà. Letteraria perché condivideremo insieme storie, brani, opinioni, pensieri di scrittori che hanno su questo tema, che fosse la fedeltà a se stessi, la fedeltà a un valore, a un ideale, la fedeltà sentimentale, una fedeltà al tradimento di una fedeltà anno consacrato dalle opere che sono diventate davvero delle bandiere, ecco direi. E poi letteraria perché io credo che dimenticare, sottrarsi al compito di raccontare una storia sia in qualche modo tradire. Dimenticare sia tradire ed ecco perché sono più che mai felice oggi di essere qui a raccontare storie insieme a voi. Gotti diceva che la fedeltà è lo sforzo di un'anima nobile per uguagliare un'altra anima più grande di lei. E' proprio in questo, ecco se la fedeltà fosse un movimento sarebbe per me un'ascensione, un movimento verso l'alto. Non è stasi, la fedeltà non è un patto giuridico, non è nemmeno un'adesione incondizionata a un precetto, non è morale, non è benaltrismo, la fedeltà. E' proprio questo passo, è quello di essere sempre stimolati, incitati a dare una virgola in più proprio per non doversi tradire. E perché motore di cambiamento? Perché la fedeltà è sempre una presa di posizione. Ora, farei una, userei una metafora calcistica, che forse è meno classica di quanto vi attenderete, eppure per me è molto chiaro. La fedeltà è una presa di posizione, è scegliere da che parte stare, in quale parte giocarsi quella partita che è chiamata vita. Davvero scegliere quale casacca indossare. Se si pensa al calcio non c'è metafora, va più chiara della fedeltà calcistica. Anzi, alcuni parlano proprio di fede. La maglia che un calciatore, ma che soprattutto un tifoso, sarei di dire, porta, non è qualcosa che si può cambiare con indifferenza. Anzi, la fedeltà è proprio un'adesione appunto a quella maglia lì che un tifoso non sceglierebbe mai di cambiare. Ecco perché è una presa di posizione che qualche volta sa diventare militanza e qualche volta ancora rivoluzione. Perché solo chi ha fede in se stesso può chiedere agli altri di fidarsi. In italiano usiamo la parola fedeltà. A me piace di più la voce medievale fidanza, da cui derivano parole come fidanzato oggi o fiducia. Dante, nel paradiso, nel canto ventitresimo, ventiduesimo, scusate, scrive L'affetto che dimostri, mico parlando, e la buona sembianza che io veggo e noto in tutti gli ardol vostri, così ma dilatata mia fidanza, come il sol fa la rosa quando aperta, tanto diviene quant'è la di postanza. Qui è quando San Buonaventura pronuncia il paneggiri con l'ode di San Domenico. Ed ecco che l'affidanza ha quel potere ancora di cambiare le cose, anzi di lasciarle esprimere, come il sole fa con una rosa, come il sole permette ad una rosa di schiudersi e quindi di rivelarsi in tutta la sua essenza, in tutta la sua bellezza e finalmente anche in tutto il suo senso. Etimologicamente la parola fidanza, da cui deriva la parola fede e fiducia, deriva da una radice ondeuropea. Questa lingua antichissima, mai attestata, non abbiamo dei resti, non abbiamo dei testi scritti in ondeuropea, è una lingua mai attestata ma ricostruita. Sono stati linguisti comparando le radici delle parole in tante lingue di famiglie simili a rendersi conto che l'origine, la fonte da cui sono poi scaturite tutte le lingue che oggi parliamo dall'Europa all'Asia era comune, ecco perché questa lingua viene chiamata indoeuropeo. La radice della parola fedeltà in ondeuropeo è beid oppure bid, da cui deriva il senso di abbassare in qualche modo le difese per elevarsi allo stesso tempo verso qualcosa di più grande. La stessa radice si ritrova nel verbo greco pezzo, ma è un verbo, ora non so chi di voi ha fatto liceo classico, che con questa desidenza dichiara di avere una diatesi medio-passiva, quella diatesi che solo il greco possedeva, tra le lingue che studiavamo a scuola antiche e moderne che fossero, quella desinenza che codificava una diatesi che non era né attiva, un'azione che si compie, né passiva, un'azione che si subisce, era qualcosa nel mezzo, qualcosa che condivideva di entrambe le possibilità. Ed ecco come questa desinenza, questa diatesi medio-passiva dimostra che la fedeltà non è qualcosa né che si chiede né che viene concesso, ma è qualcosa davvero che una sorta di patto, un legame che stringe fortemente due enti, due persone o due ideali, che si tratti di fede in qualcosa di più grande, che si tratti di un patto tra due esseri umani, un patto di amicizia, di fiducia, che sia un patto d'amore. I promessi sposi parlano infatti di questa storia di fedeltà tra due fidanzati, era in questo senso, in questo patto di fedeltà che ha l'origine il fidanzamento di Renzo e Lucia. Passando dal greco, quel pezzo si è evoluto poi in fides, da qui appunto nel latino, da cui appunto la parola fedele in italiano, come dicevo, fedeltà, fiducia e in generale questo senso quasi di collegamento tra ciò che è divino per scelta. Ora mi viene in mente Senofonte che diceva, questo storico greco, che diceva che abbiamo tutti bisogno di credere in qualcosa per dare un senso alla vita. Poi c'è chi sceglie di fissare la sua fedeltà nel cielo, altri sulla terra, ma per tutti è necessario credere. Ho scelto un po' di storie, un po' di storie che avevo in mente da tempo, un po' di storie che qualche volta hanno incrociato il mio scrivere, in altri casi storie in cui mi sono imbattuta e per curiosità, in altri casi ancora storie che non conoscevo che mi sono state regalate per condividere con voi oggi questo percorso legato alla fedeltà. Come sempre partirei dal mondo antico, dal mondo greco, dove la fedeltà era qualcosa ancora di più forte rispetto ad un patto di condivisione, di comunanza. La fedeltà era in qualche modo l'unica speranza, l'unica possibilità per sottrarsi alla morte. L'adesione di un eroe greco a un ideale risponde a quella sete, anzi quel bisogno di Cleos. Cleos era nell'antichità greca la fama, la gloria, quella gloria immortale da trasmettersi di padre in figlio che avrebbe sottratto l'eroe dall'anonimato e dall'oblio e dunque la dimenticanza. La parola greca Cleos deriva da un verbo che significa proprio dire, raccontare, trasmettere. Letteralmente Cleos significa ciò che gli altri diranno di noi. In qualche modo corrisponde all'onore. Ovviamente Cleos non è il pettegolezzo, non è il passaparola volgare che non vale nemmeno la pena di essere riportato. È proprio l'onore. Come scegliamo ancora di giocarci con la partita e come coloro che ci stanno osservando sugli spalti, diremmo, si sentono rispetto a noi e alle nostre azioni. Ecco perché, pensando all'Iliade, Ettore ad esempio decide di, nonostante, sa che perirà di scendere comunque in campo e di sfidare Achille perché sa che lascerà suo figlio astianate, orfano, ma in qualche modo sa comunque che suo figlio potrà dire che suo padre è stato un eroe. E quindi questo è per lui, questa fedeltà assoluta, finalmente direi in se stesso, è l'unico modo per sottrarsi alla morte e davvero per accedere in vita ad una gloria immortale. Pensando però al mondo antico e immaginando la fedeltà, credo che la storia che più viene subito alla mente è quella dell'Odissea e di Penelope e più in generale di questo viaggio lunghissimo di Ulisse dieci anni per ritornare ad Itaca dopo dieci anni trascorsi a Troia, dieci anni di viaggio soltanto per essere, tornare a casa in un luogo che può chiamare patria e per essere fedele. Fedele però a cosa? Fedele ad una donna? Fedele a un trono? Fedele al suo popolo? Fedele a se stesso? Fedele a un luogo geografico? A un indirizzo? Nel caso di Ulisse direi che la fedeltà è innanzitutto una fedeltà al viaggio. Il viaggio di Ulisse non sarebbe tale, non sarebbe l'Odissea senza Itaca, senza la fedeltà alla sua meta che è punto di arrivo del viaggio di Ulisse ma allo stesso tempo è punto di partenza. Senza Itaca e senza Penelope il viaggio di Ulisse non sarebbe un viaggio ma sarebbe un vagabondaggio, sarebbe un vediamo come va, vediamo dove la nave e il vento mi condurranno, vediamo chissà. Itaca e Penelope obbligano invece l'eroe in qualunque momento anche quando sembra aver quasi dimenticato l'orizzonte della sua rotta a condurre la sua nave verso ciò che per lui è in qualche modo l'essenza, l'essenza del motivo per cui si è messo in viaggio alla volta di Troia. Ci sono per me due personaggi nell'Odissea che rappresentano la fedeltà forse nel modo, non soltanto il primo modo indelebile della letteratura incidentale ma in un modo forse unico, in un modo ancora non superato. Il primo è il cane Argo, nell'Odissea il primo a riconoscere il naufrago Ulisse di ritorno a Itaca, nel figlio, nella moglie, nei suoi servitori il cane, il cane fedele che ha atteso vent'anni il ritorno del padrone e che nonostante sia Ulisse di coperto di stracci per non farsi riconoscere dai proci, Ulisse arriva ad Itaca e si cerca di nascondersi sotto le spoglie di un mendicante, il cane Argo lo riconosce per poi morire di crepacuore. Tanta è stata la gioia di riconoscere il padrone dopo un'attesa così lunga. E poi c'è Penelope. Vorrei leggere insieme a voi la scena perfetta con cui Omero descrive il momento in cui Ulisse e Penelope si rivedono dopo vent'anni. È una scena che preparando questo incontro ho riletto per non so quale sia questa volta la centesima della mia vita eppure mi ha ancora toccata per la precisione. In particolare c'è un verso che per me è indimenticabile, è davvero forse il regalo. Se dovete mai scegliere cosa ricordarvi di questo incontro oggi vi prego ricordatevi soltanto questo verso che è come bramata la terra ai naufraghi appare. Ovvero Ulisse sente nel ritrovare Penelope esattamente quel bisogno della terraferma che un naufrago può sperimentare quando ancora in mezzo al mare. Questo è il canto ventitresimo. Ulisse finalmente incontra di nuovo Penelope ma Penelope non si fida. Sceglie di non fidarsi, non è ancora convinta che quello sconosciuto che si è presentato Itaca sia davvero suo marito. E allora sceglie di metterlo alla prova e per farlo chiede allo sconosciuto, al profugo che è arrivato alla sua corte, di raccontarle come sia il loro letto nuziale. Il letto nuziale di Penelope Ulisse è un letto particolare, è un letto che lo stesso Ulisse aveva intagliato in un albero sacro, un letto bellissimo che non si può spostare perché è troppo pesante. Penelope per metterlo alla prova dice lo sconosciuto ma lo spostato come fosse una questione da poco ed ecco che lì Ulisse che reagisce esterrefatto, indignato di fronte a questa notizia che sa non essere possibile, ecco che arriva il riconoscimento tra i due. Cosiddetto scendeva dal piano alto e il suo cuore molto esitava se di lontano al che allo sposo parlasse o gli corresse vicino a baciargli il capo e le mani stringendolo. Ma come entrò, come ebbe passato la soglia di pietra, si mise a sedere in faccia a Odissio, nel chiarore del fuoco, presso l'alta parete. Lui contro un'alta colonna sedeva, guardando in giù, aspettando se gli dicesse qualcosa, la forte compagna, appena lo vedesse con gli occhi. Ma lei, muta, a lungo sedeva, stupore il petto empiva. Guardandolo, a volte lo conosceva in modo evidente, a volte non lo conosceva, così coperto di cenci. Telemaco l'abbiasimò e disse Madre mia, triste madre, dal cuore insensibile, perché resti lontana dal padre, non siedi vicino a lui, non lo interroghi, non cerchi di udirlo. Nessuna donna, con cuore tanto ostinato, se ne sarebbe lontana dall'uomo, che dopo molto soffrire, tornasse al ventesimo anno nella terra dei padri. Ma sempre il tuo cuore è più duro del sasso. La Savia Penelope rispose Creatura mia, il cuore nel mio petto è tonito, non riesco né a dirgli parola, né a interrogarlo, né a guardarlo nel viso. Ma se è davvero Odissio che in patria è tornato, o molto bene e facilmente potremo conoscerci, abbiamo per noi dei segni segreti che noi sappiamo e non gli altri. Qui c'è la parte in cui lei mette alla prova Ulisse con lo stratagemma del letto nuziale e poi di nuovo Penelope prende la parola per rassicurare il marito che resta esterrefatto. Non ti adirare Odissio con me, tu che in tutto sei il più saggio degli uomini. I numi ci davano il pianto, i numi invidiosi, che uniti godessimo la giovinezza e alla soglia di vecchiezza venissimo. Così ora non ti adirare con me, non svegnarti di questo, che subito non ti ho abbracciato come ti ho visto. Sempre l'animo dentro mio petto tremava che qualcuno venisse a ingannarmi con chiacchiere, perché molti mirano a turpi guadagni. Ah no, Elena argiva la figlia di Zeus con l'uomo straniero non si sarebbe unita ad amore e diletto se avesse saputo che ancora i figli guerrieri dei Danai dovevano metterla a casa, alla terra dei padri. Ma un dio la travolse a compiere l'azione sfrontata. La colpa triste non capì prima in cuore, la colpa da cui su noi pure si è rovesciata la sventura. Ma ora il segno certo mai dato del nostro letto che nessuno ha veduto ma soli tu e io è un'unica ancella attoride che il padre mi modò quando venni quella che chiudeva le porte della solida stanza e il cuore mi hai persaso, un cuore purtanto ostinato. Così disse e a lui venne più grande la voglia di pianto. Piangeva tenendosi stretta la sposa dolce al cuore, fedele. Come bramata la terra in naufraghi appare al cui posidone la ben fatta nave nel mare spezzato talvolta dal vento e dalle grandi onte. Pochi si salvano dal bianco mare sopra la spiaggia nuotando, grossa salsedine incrosta la pelle. Bramose risalgono a terra fuggendo la morte. Così, bramato, era per Penelo per lo sposo a guardarlo e dal collo non gli staccava le candide braccia. Questi sono per me i versi di fedeltà, fedeltà coniugale. Mea ancora di più fedeltà fedeltà a una rossa, a un cammino più potente che abbia abbia mai letto. Questo era Omero venendo a Roma e a un altro personaggio che per me è l'emblema della fedeltà, una fedeltà molto diversa da quella America e tuttavia una fedeltà forse oggi più che mai necessaria Enea. Enea è il protagonista dell'Eneide di Virgilio, Enea è l'eroe pio per definizione, l'eroe fedele per definizione, ma fedele non in una donna, non nemmeno in una rotta, nemmeno in un percorso individuale. Ecco, Enea è l'eroe collettivo e tutto ciò che fa non lo fa né per sé né per la sua famiglia più stretta. Enea non cerca in Italia un regno, non cerca una bandiera, non cerca ricchezze, cerca un futuro, un futuro che Enea sa non vivrà in prima persona, sa che Roma, la città che sta per fondare, nemmeno la vedrà a compimento, ma è l'eroe della trasmissione, tutto ciò che fa lo fa per chi verrà dopo di lui. Non sponte, non spontaneamente, Enea dice non spontaneamente vado in Italia, non spontaneamente lascio Troia, la sua storia è una storia che avrebbe preferito non vivere, Enea avrebbe preferito stare a Troia, la sua città con la sua famiglia, la sua moglie, nella sua vita, in quel prima oggi che diciamo, oggi che siamo stati a nostra volta sbattuti da una frattura storica tra un prima e un dopo, Enea sta molto comodo nel suo prima, un po' come forse stavamo comodi tutti, o almeno io stavo molto comoda nella mia vita di prima quando di pandemia e tutto quanto, nemmeno l'unica pandemia che nella mia vita avevo letto era in Pericle, la pandemia di Peste d'Atene. Enea quindi non pretende insegnarci niente, Enea non ci presenta nell'Eneide, non so, nei dieci buoni ragioni per attraversare una crisi storica e trarre chissà quale insegnamento morale, Enea non ci vuole raccontare di essere un uscito migliore, neppure peggiore, Enea non ci vuole raccontare che essere eroi sia bellissimo, anzi, piuttosto il contrario, Enea lo dice chiaramente, essere eroi quando non è necessario è una cosa da folli, essere eroi quando invece è necessario è durissima. tutto ciò che fa Enea è veramente colui che trova il suo passato da una mattina con l'altra ridotto in macerie, in macerie ancora fumanti, eppure anziché crollare, anziché dire basta, non posso, non ce la faccio più, Enea è colui che nemmeno sa come si fa eppure lo fa da qualche parte comincia e quelle macerie li mette insieme, rimette insieme i cocci a forma di patria nel suo caso, in forma di futuro. Questo è come è la rotta che Enea segue, una rotta che è davvero il cammino della fedeltà. Ciò che ha in tasca Enea, l'immagine iconica di Enea è quella del profugo, dell'esule con il padre anziano sulle spalle anch'ise, il figlio per mano. In tasca poi Enea ha qualcosa, io oserei dire l'amuleto forse o se dovesse esserci qualcosa, una miniatura della fedeltà sono i penati. i penati che sono queste nell'antichità romana erano proprio delle piccole figure d'argilla che raffiguravano gli antenati, ma al di là di essere appunto le raffigurazioni di coloro che ci hanno preceduto e per me in sintesi estrema è davvero l'identità, il senso del nostro esistere in quanto esseri umani i membri di una società, quindi non soltanto esseri viventi, caduti, sproveduti, caduti e venuti al mondo ieri, ma parte di una tradizione che ha fatto sì che i nostri padri ci abbiano consegnato ciò che da loro è stato vissuto e messo alla prova dell'esistere, ciò che ha prodotto degli esiti soddisfacenti è stato trasmesso ai figli, ciò che invece si è rivelato una delusione è stato scartato e non trasmesso e così via per generazioni e generazioni infinite fino ad arrivare a noi è quello che Enea ha in tasca nella fedeltà al suo popolo che Enea intraprende con la rotta e poi ricostruisce Roma. Ci sono due momenti dell'Eneide che vorrei condividere con voi oggi ma il primo è troppo noto, famoso e spesso troppo mal secondo me malinterpretato comunque con troppa leggerezza è la storia d'amore tra Enea e Didone distribuire giudizi di sorta l'episodio come dicevo è già fin troppo noto però ecco la fedeltà sembra un paradosso eppure Enea tradisce la fiducia che Didone ripone in lui per essere fedele a quell'ideale collettivo di fondare Roma è in qualche modo una guerra di due fedeltà e quindi nel caso di Didone una fedeltà individuale una fedeltà di coppia tra due persone nel caso di Enea la fedeltà di un popolo e in questa sorta di derby delle fedeltà nel caso di Enea è la sua rotta la meta è Roma a prevalere c'è poi un'altra scena che a me ha colpito moltissimo e che spesso ci penso quando sono un po' smarrita un po' tanto smarrita in questa ripresa del dopo che sembra non arrivare mai anche quando ci crediamo di esserne fuori veramente il dopo questa è la volta buona ci siamo da qualche parte un sintomo una spia ci fa comprendere che comunque siamo ancora in mezzo a quel prima il dopo ed è una scena in cui Enea durante il suo viaggio in mare alla volta di Roma incontra incontra la moglie di Ettore che per altri giri altre rotte è sopravvissuta è stata venuta come schiava finalmente si è liberata si è unita ad un altro matrimonio ed ecco che Enea la incontra tra le lacrime e la nostalgia le chiede come stai e Andronaca mostra che con altri esuli da Troia ha costruito una specie di piccola Troia piccola Ilio una Troia 2 una Troia in miniatura un prima più piccolo una sorta di prima raffazzolato una pezza qualcosa che sia una consolazione ecco nel caso della piccola Ilio che Andronaca e i suoi compagni hanno costruito quasi commovente c'è persino un piccolo fossato che riproduce il grande fiume attorno al quale si ergeva Troia e nelle parole che Virgilio sceglie per descrivere quel senso di amarezza misto contraffazzolato nel prima non potrà mai più tornare perso per sempre qualunque tentativo di rifarlo di rimetterlo in piedi di copiarlo di fare finta che comunque sia ancora quello non potrà che essere non soltanto deludente ma terribilmente doloroso ed ecco perché Enea quel dolore lo sente e di nuovo per quella fedeltà lo spingerà a fondare Roma non si accontenta di restare una versione diminuita del suo passato ma sceglie di dare un senso a tutto quel soffrire e costruire un futuro che sia più grande del male subito venendo invece ad un due storie molto più contemporanee sono due storie che vorrei raccontarvi oggi due sono storie di oserei dire di fedeltà a un ideale a un ideale che in qualche modo ha fatto va la storia e ci pensavo stamattina prendendo l'aereo un ideale che ha fatto la storia che per noi è diventato consuetudine la prima storia è quella dell'aereo postale non so qualcuno lo conoscete avete sentito parlare l'aereo postale era quella linea aerea che collegava la Francia per pochissimi anni soltanto dal 1927 al 1933 una linea aerea che collegava la Francia all'America Latina consegnando posta è la storia dell'aviazione degli arbore dell'aviazione civile e dei primi grandi aviatori e tra questi primi grandi aviatori c'era Antoine de Saint-Exupéry l'autore del del piccolo principe ma non solo per noi Antoine de Saint-Exupéry è diventato l'autore del piccolo principe ma è stato autore di tanti scritti dedicati appunto al mondo dell'aeronautica del volo e è proprio uno di questi che vorrei parlarvi di un suo libro il volo di notte e più in generale dell'aviazione mi ha molto colpita stamattina prendevo l'aereo per venire qui da Parigi e quindi sono arrivata c'erano i fiocchi di nevi più grandi della mia mano dicevo che cosa sta succedendo e ci pensavo che soltanto meno di cento anni fa era prendere un aereo davvero un'avventura un'avventura che comportava non soltanto oserei dire un'ottima dose di coraggio cioè non era assicurato l'arrivo a destinazione ma comportava una fedeltà totale oserei dire una fedeltà definitiva nei confronti dell'idea stessa che l'uomo possa volare una fedeltà nei confronti dell'ingegneria innanzitutto ma una fedeltà in un sogno si può essere fedeli in un sogno che per definizione è qualcosa di qualcosa che non è garantito non è certo è qualcosa di aleatorio per definizione Saint-Anxupery e la compagnia aeropostale risposero sì non è un caso i primi grandi aviatori proprio di questa compagnia l'aeropostale che poi è confluita in Air France erano non erano non so degli impiegati che indecisi se lavorare non so alla posta di Parigi o consegnare lettere in aereo dissero vabbè ma andrà bene in aereo no proprio lo facevano proprio per dimostrare una volta di più l'adesione alla fascinazione dell'essere umano in volo Saint-Anxupery nella sua biografia era nato era nato a Lione pilotò il suo primo aereo all'età di 12 anni qualcosa di incredibile quando gli aerei erano poco più di una fusoliera con due ali e un motore se c'era un motore piazzato sotto le ali altrimenti era soltanto eliche e già quando comunque aveva militato in qualità di aviatore durante la guerra la prima guerra mondiale ma già quando comunque aveva una carriera letteraria davanti a sé lui come tanti altri suoi colleghi scelsero comunque di continuare ad attraversare l'oceano per consegnare lettere per posta proprio per non tradire nella possibilità di volare nella parola scritta nella mia testa da quando ho scoperto questa storia mi chiedo sempre mi immagino davvero il fatto di sfidare un oceano con degli aerei che oggi non prenderemo nemmeno per pochissimi metri per consegnare lettere nella mia testa mi dicevo ma chissà cosa ci sarà scritto di così importante in queste lettere mi immaginavo pergate a mano in Francia chissà quale verità poi come sempre il bello della corrispondenza è che non sono le lettere non sono capolavori quelli non sono romanzi da premio Nobel ma sono sensazioni sentimenti quindi ci sono le lettere della madre che scrive al figlio ti penso ti ho fatto la torta torna a casa ed era proprio per questo tipo di messaggio per la fidanzata che scriveva ho molta voglia di vederti che esseri umani sfidavano la morte e questo è come avviene nel libro che in Santo Exuperia ha dedicato per me uno dei libri più difficili forse e più duri relativi al tema della fedeltà che è Volo di notte un suo romanzo molto breve del 1931 pubblicato in Francia da Galimà che vinse un premio molto prestigioso che è il PRI femmina e in questo romanzo un romanzo breve agile narra ancora una volta un po' come nel caso di Enea e di Donne una sorta di derby tra due tipi di fedeltà ancora una volta la fedeltà coniugale la fedeltà amorosa tra un uomo e una donna e poi la fedeltà un ideale Volo di notte è la storia di un aviatore un aviatore dell'aeropostale che una notte resta impigliato e non uscirà più in una tormenta in una bofera e il romanzo del libro è il dialogo tra il direttore della compagnia aerea della compagnia aeropostale e la torre di controllo in cui entrambi cercano notizie o attendono che il pilota inghiottito della tempesta dia notizie o comunque confermi di essere salvo quantomeno in vita e quindi tra appunto il direttore della compagnia aerea che comunque crede che sia un sacrificio ammissibile perdere una vita umana in nome del volo sia comunque ammissibile questo non gli farà mai cambiare idea rispetto alla bontà e alla fedeltà della linea aeropostale della possibilità di volare di notte e della moglie di questo pilota che invece è a casa che attende il ritorno del marito e che invece maledisce non ha più che mai qualunque tipo di aereo di ambizione aeronautica per avere il marito salvo a casa e nelle parole di entrambi si vede quanto qualche volta proprio come nel caso di Enea ci siano diversi gradi di fedeltà diverse adesioni e non sta nemmeno a noi stabilire una verità assoluta ma in qualche modo ci sono situazioni della vita che mettono in gioco entrambi o due o tre o come nel caso di una fedeltà qualcosa di più grande come può essere appunto una fedeltà religiosa ancora di più infine l'ultima storia prima di lasciare spazio vostre considerazioni se ne avete è una storia che mi ha molto molto colpita e che ho scoperto soltanto qualche settimana fa e che da allora non riesco più a togliermi dalla testa è la storia di Josephine Baker non so se qualcuno la conosce il 30 di novembre quindi davvero una decina di giorni fa a Parigi il Pantheon dove questo luogo che è diventato un mausoleo dove vengono inumati i grandi protagonisti che hanno reso grande la Francia penso a Marie Curie o a Hugo ha accolto le spoglie di Josephine Baker che era una donna è stata la prima donna non francese e di colore ad essere ammessa al Pantheon quindi mi sono detta donna è già qualcosa che vale la pena approfondire non francese quindi non francofona e non scrittrice non ci sono libri che in libreria potremmo trovare di Josephine Baker allora questo mi ha spinta a studiare un po' più a fondo la sua biografia ed è davvero forse per me è una delle storie più spettacolari che abbia mai scoperto è sicuramente una delle storie che racconterò a mia figlia e sicuramente è la risposta perfetta qualunque va a polemica bieca su integrazione femminismo razzismo che sia Josephine Baker era una donna nata nel 1906 a San Luis nel Missouri Stati Uniti era la ultima di 13 figli da una famiglia talmente povera che Josephine Baker era costretta in francese si dice a ferro le più belle a cercare da mangiare nell'immondizia si è sposata per la prima volta all'età di 13 anni all'età di 15 era già divorziata e sola in mezzo alla strada aveva un solo sogno Josephine Baker quello di cantare e di diventare protagonista di un grande spettacolo di Broadway non ha mai ricevuto un'educazione nella situazione in cui veramente è venuta al mondo è cresciuta di una indigenza estrema eppure a 16 anni riesce grazie al suo talento ad arrivare a Broadway la viene dotata da una compagnia da una compagnia di teatranti francesi che la invitano in Francia per la prima volta ad esibirsi nei grandi cabaret dei boulevard francesi che nei fogli anni 20 iniziano ad aprire le loro porte sempre più numerose la sera Josephine Baker era nera e viene invitata in Francia proprio per riprodurre quel cliché che allora si stava si stava confezionando della persona di colore che rappresenta appunto lo stereotipo anzi davvero il cliché dell'africano soltanto che Josephine Baker non era disposta né a vendere se stessa né tantomeno a vendere le sue origini e il colore della sua pelle quindi a tutti coloro teatranti che le chiedono di spogliarsi nuda o di diventare la caricatura di se stessa rifiuta 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 e si impone per il suo talento diventando nel giro di due o tre anni la regina indiscussa di tutti gli anni venti parigini perché lei ha qualcosa di più e oltre al suo talento lei ha il jazz è la prima unica indiscussa grande ballerina performer oggi diremmo di musica jazz di Parigi e la maggior parte delle delle canzoni melodie non so se racchiudete gli occhi e pensate ai grandi anni venti alla belle époque francese ecco tutti vengono da lei non abbiamo spesso l'immagine di lei che ci viene alla mente ma tutto e grazie a lei lei che era una divastruta si presentava sul palco con un leopardo e un guinzaglio diceva devo essere degna ogni mattina di me stessa la sua vita diventa uno spettacolo costante dei mariti ho perso il conto pare secondo la leggenda che 1500 uomini ne avessero chiesto il matrimonio uno di questi di fronte al rifiuto si sarebbe suicidato ai suoi piedi il numero invece di sfidanti duelli d'amore sarebbe infinito sarebbe stata l'amante tra tanti di Simeon e qui arriviamo alla prima alla seconda guerra mondiale all'arrivo nero del nazismo in Europa e all'occupazione francese Josephine Baker la stella del teatro ma questo non conta così tanto agli occhi di Hitler resta una nera e quindi resta qualcuno da emarginare e da allontanare di fronte quindi prende alla caduta di colei che era la regina di Parigi Josephine Baker risponde con qualcosa ancora di più rispetto a qualcosa di ancora più fedele e replica con la fedeltà al paese che l'ha accolta alla Francia Josephine Baker entra a far parte dei servizi segreti francesi si stia a ruola come spia e per trasportare consegnare informazioni private durante la resistenza diventa una delle spie più efficienti e più l'amata aree della resistenza francese pare che abbia consegnato informazioni preziosissime scrivendole con l'inchiostro sulle sue partiture musicali certo che nessuno sarebbe stato interessato a leggerle altre nel reggiseno pare che avesse sedotto anche un un ufficiale italiano un ufficiale italiano fascista dal quale avrebbe carpito informazioni termina la guerra viene decorata con la regione d'onore dal presidente De Gaulle trova infine l'uomo della sua vita o quantomeno l'ultimo dei suoi numerosissimi matrimoni con il quale si trasferisce Lascia le scene Lascia Parigi si trasferisce in campagna dove adotterà tredici bambini di nazionalità tutte diverse che chiamerà il mio grande la mia grande famiglia arcobaleno diventa quindi madre adottiva di tredici figli e resterà uscirà per sempre dalle scene fino a poi impegnarsi negli ultimi anni della sua vita con Martin Luther King il leader del movimento appunto antirazzista che si afferma negli Stati Uniti proprio per sostenere Martin Luther King alla morte del marito si ritrova spende non pochi soldi si ritrova in difficoltà economiche sarà Grace di Kelly Grace Kelly diventata Grace di Monaco ad aiutarla negli ultimi anni della sua vita fino a poi a morire negli anni 70 infine la settimana scorsa avere poi accesso ancora una volta a quel Cleos che i greci cercavano tanto nei poemi appunto americi a quella gloria a quella fama che è capace di garantire l'immortalità ed è una storia che trovo spettacolare la storia di una di una donna che senza alcuna educazione se non con il suo talento una fedeltà incrollabile in se stessa e nella dignità della vita ha potuto arrivare fino al panteono ovvero là dove qualcosa di dove la riposano e siedono coloro che hanno fatto grande un paese intero io poi avrei altre storie da raccontarvi ma il tempo mi sembra che stringa e sarei curiosa di ascoltare voi se avete qualcosa da da condividere voglio no allora visto che lo so che doveva abbiamo circa un'ora però mi hanno detto siccome mi è piaciuto così tanto preparare questo incontro che avrei ancora una storia da raccontarvi se avete voglia se no perché in tutto questo parlare di fedeltà vi sarete accorti che non sono andata così ho un po' tracciato forse la fedeltà che almeno a me interessa molto la fedeltà amorosa la fedeltà in una copia che bisogna fare perché qualche settimana fa anzi questo è molto recente credo non sia ancora uscito il pezzo che scrivo per ventavoli sulla stampa mi sono imbattuta in un libro giapponese incredibile che si chiama Fiabbe di Letto non so nemmeno secondo me non sarà pubblicato brevissimo forse l'ho già stato comprato di un'autrice giapponese che si chiama Mori Yoko e ora vi racconto la storia perché ne vale la pena e anche il tema di questo libro Mori Yoko era lo pseudonimo di una tranquilla casalinga giapponese nata e crescita nesciuta sempre a Tokyo negli anni 40 quindi il pseudonimo nom de plume di una casalinga con una professione una vita impeccabile ente gerri ma un giorno la figlia più piccola una casalinga sposata con un uomo d'affare inglese madre di tre figli un giorno la figlia più piccola suona il telefono casa risponde ma viene annunciato che la madre con il nome d'arte di Mori Yoko ha vinto il premio Subaru l'equivalente del premio strega la bambina dice no ma ci deve essere un errore qui in casa non abita questa donna di cui parlate ma invece si è Mori Yoko che da oggi al domani diventa la più grande star della letteratura giapponese Mori Yoko che secondo la critica sarebbe stata un'autrice di di love affair ma di storie d'amore ma di storie d'amore extra coniugale in giapponese c'è una parola per dire questo tipo di storie e questo tema io non lo so non parlo giapponese credo si pronunci FUSIN FUS è l'ideogramma che significa sottrazione quindi significa senza sin significa moralità le storie al di fuori di un rapporto di moralità quindi al di fuori di un rapporto coniugale Yoko Ono ha scritto queste storie di cui la raccolta fiabile di letto sono tutti dei racconti piuttosto brevi tutti dedicati al tema dell'infedeltà coniugale del tradimento di un marito sono tutte storie che hanno come protagonista una donna ma non un tradimento semplicemente per il gusto di tradire un'avventura sessuale o un'infatuazione quel tradimento secondo Mori Yoko che è necessario per far durare un matrimonio quel tipo di tradimento di fronte al quale un uomo direbbe perché e una donna invece comprenderebbe senza bisogno di aggiungere parole quel tipo di tradimento che prima di leggere questo libro in edito in Italia io avevo letto soltanto con grande turbamento in Philip Roth in lezioni di anatomia quel tipo di tradimento che solidifica una coppia pur minando forse quella fedeltà che è forse la promessa nel momento stesso in cui esista le storie di Mori Yoko sono incredibili per quanto sono scandalose sono scandalose non perché raccontino questa cosa ma perché è uno scandalo che ho sentito molto forte e molto vicino sono storie che come lei dichiara nella più parte dei casi ha vissuto le stesse prima persona in effetti per la famiglia non deve essere stato troppo divertente né per le figlie né per il marito scoprire le avventure appunto di letto della madre e della moglie in questo senso la scrittrice ha cercato in tutti i modi di in qualche modo compensare economicamente il marito pare che gli abbia regalato persino un'isola in Canada per farsi perdovare quindi direi non poco la critica giapponese al tempo accusò Mori Yoko di compromettere pubblicamente la morale era un Giappone che usciva da secoli e secoli di tradizioni di matrimoni combinati o quantomeno da incontri prematrimoniali affidati da agenzia alla rivoluzione sessuale che arrivava diretta dagli Stati Uniti con tutti i prodotti poi di consumo con lo stile di vita occidentale estraneo al Giappone Mori Yoko è sempre rimasta fedele alla sua idea di letteratura a lei non interessava il senso di colpa nel tradire una storia le sue eroine non hanno mai sensi di colpa hanno piuttosto questa fedeltà nell'idea di infedeltà negli anni 90 poco prima di morire in qualche modo Mori Yoko inventa qualcosa che non avevo mai visto da un punto di vista letterale con tanta chiarezza quasi io direi quasi un product placement in chiave letteraria i grandi marchi oggi 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 come ieri quando forse ero giovane c'erano Sex and the City quindi storie abbastanza piccanti in cui le protagoniste avevano messe in mano non so borse firmate e abiti da sogno nel caso di Mori Yoko le grandi marchi occidentali da Prada a Marche di Champagne o di Vino chiedono alla scrittrice di mettere questi prodotti nei suoi racconti proprio per creare in qualche modo per contaminare forse con questa alone questa patina esotica avvenuta dall'occidente quel tutto l'immaginario tradizionale orientale quindi diventa in qualche modo la prima oggi diremo influencer non lo so la prima placement letterario fino a poi appunto morire precocemente per via di un cancro la sua opera resta il suo testamento non è mai stata tradotta e questo fuori dal dal Giappone c'è stato solo un piccolo tentativo negli Stati Uniti ma un tentativo marginale e a breve per la cadetrice Lindau verrà pubblicato questo libro che si chiama appunto Schiave di Letto che poi è il progetto di una vita intera di tre donne di tre donne italiane che di questo di questo progetto sono le traduttrici le curatrici che hanno cercato di di ricostruire la percorso letterario di una quella che per me è una grande scrittrice e che è sempre stata un po' liquidata come l'autrice di storie femminili o storie storie d'amore grazie grazie a tutti grazie a tutti